cari amici buona giornata a tutti ogni tanto la domenica vado a celebrare la messa in qualche luogo particolare ecco vedete oggi sono proprio qui in questa domenica che anche la domenica della parola siamo nel mese di gennaio il 23 gennaio per noi sti mattini è anche la festa dei santi sposi maria e giuseppe i nostri patroni ecco e oggi dopo aver celebrato la messa non qui proprio a braulins ma a bordano questa è la strada che sale verso il paese di bordano ecco mi sono fermato qui in questa giornata splendida come vedete dal cielo azzurro da questa montagna ecco siamo proprio a braulins nel paese nel comune di trasaghi e come vedete sono sceso proprio a livello del fiume questo è questo fiume con l'acqua limpida vedete anche il tagliamento ma poi il ponte il ponte storico di braulins che come ho avuto occasione di dire è lungo oltre 400 metri quindi quasi mezzo chilometro e a 17 arcate pensate un po ecco questa è la bellezza di questa zona vedete scorrere l'acqua in questo grande letto del fiume e in alto naturalmente le montagne e il cielo azzurro ora siamo in tempo d'inverno il clima abbastanza rigido però durante l'estate qui ci sono anche gruppi di persone che vengono qui come se fosse una grande spiaggia passare qualche ora prendere un po di sole in questa zona di grande ricchezza naturale di grande silenzio di meraviglia della natura e la sotto le montagne vedete proprio gemona del friuli e come vedete appunto qui c'è anche un po di sabbia marina per così dire quindi è un luogo molto bello ed ecco la frazione di braulins con la sua chiesa e in alto la chiesa dedicata a san michele arcangelo troviamo qui anche una piccola edicola con questo crocifisso parte sulla parte sinistra c'è anche l'immagine della vergine maria e sulla parte destra queste piante siamo proprio sulla strada che va verso trasaghi e verso bordano ed ecco il grande cartello strada provinciale di bordano naturalmente l'obbligo pneumatici infernali catene a bordo e mi trovo sempre sulla riva del grande fiume il tagliamento in questo spazio lungo la strada qui c'è un grande parcheggio in questo parcheggio ci sono delle cose particolari anzitutto queste lunghe tavole che servono come luogo per sedersi per un picnic durante l'estate magari quando il clima è meno rigido e poi ecco sopra questo masso di pietra c'è un piccolo monumento del pescatore qualcuno ha voluto appoggiare qui l'immagine del pescatore ed ecco questa piccola stata del pescatore sopra questo grande masso mi stava spiegando quello di fronte dell'abitazione qui lungo la strada che sono stati loro a mettere questa grande pietra e a metterci questa piccola statua per ricordare proprio questa zona anche di pesca ma accanto a questa pietra a questa massa eccomi giro per farvi vedere questo particolare interessante ci sono delle biciclette dismesse non sono abbandonate qui sono messe proprio quasi per ricordare i ciclisti che passano per questa strada sono biciclette ormai possiamo dire di antiquariato certamente del secolo scorso che sono qui castrate dentro questi tronchi per ricordare quante persone sono passate da questi luoghi con le loro biciclette che